Riscopri il piacere della buona tavola con Kenwood Chef, l'unico approvato dalla Federazione Italiana Cuochi. Grazie alle attrezzature optional con Kenwood Chef tutto è più facile. Per le salsicce, lui treta la carne. Lui amalgama l'impasto con gli aromi. Lui confeziona le salsicce. E a te non resta che gustare tutta la loro bontà. Kenwood Chef, il piacere delle cose fatte in casa. Riscopri il piacere della buona tavola con Kenwood Chef, l'unico approvato dalla Federazione Italiana Cuochi. Grazie alle attrezzature optional, con Kenwood Chef tutto è più facile. Per il pane ai mirtilli, lui macina i fiocchi di avena. Lui prepara l'impasto base. Lui trita le noci. Lui amalgama l'impasto finale. E a te non resta che gustare tutta la sua bontà. Kenwood Chef, il piacere delle cose fatte in casa. Riscopri il piacere della buona tavola con Kenwood Chef, l'unico approvato dalla Federazione Italiana Cuochi. Grazie alle attrezzature optional con Kenwood Chef, tutto è più facile. Per il gatto, lui sbuccia le patate. Lui prepara l'impasto base. Lui grattugia la provola affumicata. Lui sminuzza la mortadella. Lui amalgama l'impasto finale. Lui trita il pane. E a te non resta che gustare tutta la sua bontà. Kenwood Chef, il piacere delle cose fatte in casa. Riscopri il piacere della buona tavola con Kenwood Chef, l'unico approvato dalla Federazione Italiana Cuochi. Grazie alle attrezzature optional, con Kenwood Chef tutto è più facile. Per le lasagne, lui prepara l'impasto base. Lui stende la sfoglia per le lasagne o per le tagliatelle. Lui macina la carne per il ragù. Lui trita le verdure per il soffritto. E a te non resta che gustare tutta la loro bontà. Kenwood Chef, il piacere delle cose fatte in casa. Riscopri il piacere della buona tavola con Kenwood Chef, l'unico approvato dalla Federazione Italiana Cuochi. Grazie alle attrezzature optional, con Kenwood Chef tutto è più facile. Per il Plum Cake, lui prepara l'impasto base. Lui grattugia le mele. Lui trita il cioccolato. Lui amalgama l'impasto finale. E a te non resta che gustare tutta la sua bontà. Kenwood Chef, il piacere delle cose fatte in casa. Riscopri il piacere della buona tavola con Kenwood Chef, l'unico approvato dalla Federazione Italiana Cuochi. Grazie alle attrezzature optional, con Kenwood Chef tutto è più facile. Per gli spaghetti con pesto alla Mediterranea, lui passa l'impasto al torchio. Lui frulla la salsa. Lui grattugia il formaggio per il condimento. E a te non resta che gustare tutta la loro bontà. Kenwood Chef, il piacere delle cose fatte in casa.